Radio Bruno Presidente, Intred a fianco della Scuola Regina Margherita di Castegnato per un progetto sostenibile, come nasce il vostro coinvolgimento? Intred è una società con una forte presenza sul territorio della Lombardia e siamo bresciani e quindi un'iniziativa così bella non poteva essere sostenuta dalla nostra società. È un bel progetto, oltretutto Green, la società sta investendo molto anche da questo punto di vista e quindi è con grande piacere che lo sosteniamo. Parliamo anche di bilanci, un bilancio sostenibile? Direi di sì, l'Intred è impegnata nella realizzazione di un progetto che è quello di ottenere sostanzialmente il primo bilancio di sostenibilità e che si andrà a completare entro la fine di quest'anno. Tra l'altro lo stiamo portando avanti in collaborazione con l'Università Statale di Brescia. Massimo Pesenti, la FISM oggi presente a questo gemellaggio tra Intred e Regina Margherita di Castegnato, un progetto da ripetere? È un progetto molto interessante su un tema importantissimo come quello ambientale, dell'educazione ambientale e della sostenibilità delle nostre realtà e quindi è un progetto che va assolutamente preso a modello e riproposto nelle altre scuole del nostro territorio perché davvero può avere un impatto molto molto interessante. Prendiamo il mondo dai nostri padri per lasciare i nostri figli oppure è un mondo che dobbiamo lasciare ai nostri figli e lo prendiamo in prestito? Siamo sempre abituati a dire che riceviamo il mondo in eredità dai nostri figli. A me piace ribaltare la prospettiva e dire che lo riceviamo in prestito dai nostri figli perché questo ci responsabilizza maggiormente sul custodirlo come peraltro ci insegna Papa Francesco che nell'enciclica Laudato Si ci ricorda che dobbiamo prenderci cura della casa comune. Sostenibilità alla Fondazione Regina Margherita di Castegnato, una spesa per tagliare le spese? Assolutamente sì, una spesa che serve per tagliare le spese, la spesa la affronteremo quest'anno ma le spese verranno tagliate per i prossimi 25 anni quindi direi un buon investimento soprattutto se questo investimento verrà in qualche modo aiutato dalle famiglie di Castegnato. Un progetto che coinvolge la collettività con una raccolta punti? Sì, una raccolta punti, dicevo ce ne sono molte raccolte punti, in questo caso noi non vendiamo nulla, chiediamo semplicemente delle liberalità quindi chiediamo ai cittadini di lasciarsi coinvolgere in questi progetti, in queste iniziative che fanno bene non solo alla scuola ma anche al territorio.